Ciao ragazzi, questo che vedete in camera non è il nonno per il confronto con il 220-50 ma è un lucchetto che ho solo per oggi, il 220-40, made in Italy, quindi sempre della serie 220 però da 40 mm ecco, questo esemplare in particolare è fatto, devo dire, abbastanza meglio del 220-50 che ho io che non ho comprato nuovo ma ho preso, usato, questo conserva maggiore precisione tensione dal basso, grimaldello, gancho studiato per i canali ristretti come questo pin to pin, partendo dall'ultimo che è il cilindrico, qui già toccandolo otteniamo il falsetto, vedete è inclinato il canale, adesso andiamo a fare la ricerca delle bobine, fuori 1, fuori 2 fuori 2, fuori 3, e la quarta dove sta? Eccola, è lei, eccola, e vedete che si apre canale ruotato, vedete, non c'è inganno cisa 220-10 da 40 mm ciao a tutti dal Brucola